I beni del patrimonio dell'allevatore Maurizio Trubbia sarebbero tutti legati a fonti lecite e all'attività svolta nel tempo. Una conferma la fornita al consulente del lavoro sentito davanti ai giudici del Tribunale delle misure di prevenzione di Caltanissetta. Nei confronti di Trubbia, che è stato coinvolto in procedimenti penali di mafia perché considerato parte del gruppo Emanuello, è stato disposto il sequestro per un totale di circa 500.000 euro. Sotto confisca potrebbe finire anche la gregge, oltre agli immobili e ai conti correnti individuati dagli investigatori. Il consulente ha risposto alle ulteriori richieste di approfondimento avanzate dal PM per la difesa sostenuta dall'avvocato Nicoletta Cauchi. Non ci sarebbe alcuna irregolarità nel patrimonio a disposizione di Trubbia. È stato illegale ad ottenere l'esame del consulente negli scorsi anni dopo una prima condanna. L'allevatore è stato coinvolto nell'indagine RediVivi2, anche in questo caso con il peso dell'aggravante mafiosa. Ieri mattina è stato a sua volta sentito e ha spiegato di aver sempre lavorato. Ammesso che le difficoltà sarebbero maturate dopo il coinvolgimento nelle indagini della DDA di Caltanissetta. Secondo i PM sarebbe stato individuato come possibile reggente di Cosa Nostra Locale dopo la morte di Daniele Emanuello. La decisione nel giudizio scaturito dall'indagine RediVivi2 potrebbe pesare sul procedimento in corso al Tribunale delle misure di prevenzione che dovrebbe concludersi il prossimo dicembre. In base ai numeri forniti dal consulente la difesa ha comunque ribadito la regolarità dei patrimoni intestati proprio a Trubbia.